Andrea Zanusso, sindaco di San Giorgio. Qual è l'importanza dell'Unitrae per il Comune di San Giorgio? È una importanza strategica. Abbiamo sostenuto con molta passione la nascita di questa neonata associazione perché crediamo che questa Unitrae, con il lavoro del Presidente, del Consiglio Direttivo, possa essere utile sia a livello locale alla nostra comunità per aggregarsi sulla attività che vanno appunto a condurre, ma anche creare un punto di riferimento culturale per un territorio molto più ampio che può fare leva su una cittadina come quella di San Giorgio che ha molto da dare in termini di cultura. Riconfermata la prestigiosa sede del Museo Nossi Rai. Sì, è un simbolo, è il simbolo Michela, è il simbolo della nostra comunità ed è un simbolo di un nuovo atteggiamento che nasce in sinergia appunto anche con l'attività che la Unitrae nella sua autonomia conduce nei corsi, che ho potuto ammirare questa sera la presentazione, sono molto ampi, strutturati, prevedono un periodo di tempo, un lasso di tempo molto ampio, ma ho voluto evidenziare appunto come sono stati tutti declinati sulle persone e sul bisogno delle persone di avere aiuto dalle iniziative che vengono fatte. Questa è una di quelle iniziative che può essere definita concreta e volta veramente alle persone e per il loro benessere. Enrico Bardezono, presidente dell'Unitrae San Giorgio. Bilancio di questo primo anno? È stato un anno ricco di soddisfazioni, abbiamo avuto un buon numero di iscritti, un centinaio, siamo riusciti a svolgere quasi tutti i laboratori e i corsi, è stato veramente un anno molto molto produttivo, abbiamo cercato di creare le basi per poter poi migliorare negli anni successivi e quest'anno. Nuovo anno accademico, quali sono le novità? Le novità? In quest'anno abbiamo cercato di implementare il numero di corsi e laboratori per cercare di andare proprio a soddisfare tutte le richieste. Abbiamo ripreso i corsi laboratori dell'altro anno che hanno avuto un ottimo successo e ci hanno richiesto un ulteriore approfondimento. In più partiranno i corsi di ginnastica, quindi ginnastica dolce, un corso di genealogia dei cognomi e tanti altri.